Ciao ragazzi, allora rispondo alle vostre domande riguardo il sistema d'allarme per auto che ci stiamo occupando di distribuire in Italia. In questa vettura l'abbiamo montato l'anno scorso e oggi ci troviamo a fare un'operazione come promesso dal nostro allarme. Lo togliamo da questa vettura per poi passarlo su un'altra. Ma in questo video voglio rispondere alle vostre domande su come funziona. Vi ho promesso che vi avrei fatto un video in merito e oggi vi faccio vedere precisamente come funziona il nostro sistema d'allarme. Quindi ora saliamo in macchina. Allora ragazzi siamo in auto, ora vi faccio vedere come funziona l'allarme, quindi come va in difesa sulla Fiat 500 X Sport. Perché ho disabilitato la key dell'allarme e quindi se ora vado a mettere in moto la macchina facendo finta che mi abbiano clonato la chiave, io sono con la chiave della vettura, vi faccio vedere precisamente come la macchina va in difesa. Allora ragazzi, questo conta chilometri di Fiat 500 X, qui ho le chiavi della vettura, questa è una macchina con la keyless, metto a fuoco il conta chilometri. Faccio finta di essere un ladro che ha clonato la chiave di questa macchina e cerco di metterla in moto. E questo è quello che succede. La macchina è morta. Stop, è finita qui. Non fa null'altro. La macchina non te la puoi portare via neanche con le chiavi. Chiaro? Neanche con le chiavi. Quindi qualunque altro sistema di furto è inutile. Perché se ti do le chiavi e non riesci a portarti via la macchina, vuol dire che gli altri sistemi sono tutti superflui. Ora andiamo a vedere invece come posso mettere in moto la macchina, quindi come sbloccarla se sono il titolare. Quindi giriamo di nuovo la telecamera. Allora ragazzi, come spiegato nel video che ho fatto un po' di tempo fa, questo sistema d'allarme si può sbloccare in tre modi. Il primo sistema con il sistema comfort è quello di avere questa key attiva. Io l'ho disattivata perché basta schiacciare un pulsantino e questa si disattiva. Io la riattivo e se vado a mettere in moto la macchina, la macchina riconosce questa key e la macchina va in moto. Un altro modo per disabilitare l'allarme, quindi attivare la vettura, è quella dei tasti della vettura. Quindi ho registrato dei tasti, in questo caso per farvi un esempio ho registrato cinque volte il tasto set più e da lì sblocco la vettura e me ne vado. Un altro sistema è quello di utilizzare l'applicazione, quindi scarico l'applicazione, connetto il mio smartphone al sistema di allarme e ogni volta che io salgo sulla vettura il sistema d'allarme riconosce il mio smartphone, l'allarme si sblocca e la vettura va avanti. Quindi ora vi faccio vedere come sblocco con i tasti. Ok? Quindi giriamo di nuovo la telecamera. Allora ragazzi, qui quadro spento, ho sempre la key che sarebbe questa chiusa, voglio andare via con la macchina disabilitando con i tasti, quindi ho messo 5 volt set più, accendo il quadro, schiaccio cinque volte, uno, due, tre, quattro, cinque e metto in moto. Ecco qua, vedete? La macchina è in moto e io me ne posso andare tranquillamente. Chiaro? Ora vi faccio vedere invece con la key. Allora, ho attivato la key schiacciando dei buchini, nei buchini c'è un tastino, schiacciandoci dentro e tenendolo premuto ho riattivato la key. Quando la key è attiva, per mettere in moto la macchina non bisogna far nulla, perché una volta che noi siamo saliti in auto, la macchina riconosce subito questo, quindi basta che io schiaccio. Nella macchina parte, cioè non devo far nulla, non ho schiacciato pulsanti, non ho fatto nulla, ok? Quindi con la key è semplicissimo tanto quanto lo è quando abilito un cellulare, ok? Vi do un'altra chicca di questo sistema d'allarme. A parte quella che vi ho dato all'inizio video, dove vi dico che ora smonto l'allarme per passarlo sulla prossima vettura del cliente, c'è una chicca di questo antifurto, che è quella del sistema chiamato service. In poche parole, che succede? Voi avete questo sistema d'allarme, che come ho detto anche nei video precedenti, è totalmente nascosto, e voi non volete neanche però farlo sapere al vostro meccanico, al concessionario dove portate l'auto, al lavaggista e quant'altro, c'è una funzione che si chiama service. Come si mette in service la macchina? La macchina si mette in service in un modo semplicissimo. Basta tenere premuta l'ultima cifra del codice che avete inserito, non cifra, l'ultimo pulsante, quindi nel mio caso mettendo 5 volte 7, io faccio 7, 7, 7, 5 volte, alla quinta volta lo tengo premuto. La macchina va in service, quindi l'allarme si disattiva, noi, scusate, diamo la chiave senza neanche la key al meccanico, al lavaggista, a chi che sia, e loro utilizzano la macchina in modo totalmente normale, senza neanche sapere che nella vettura c'è montato il sistema d'allarme. Una volta ritirata la vettura, facendo la procedura di nuovo, si riattiva il sistema d'allarme e quindi la macchina è protetta nuovamente. Perché dico questo? Perché il nostro allarme è totalmente nascosto, infatti non c'è, scusate se vi copro un attimo, non c'è niente che si vede, non ci sono spioncini, non ci sono sensori, non c'è nulla. Questo perché? Perché non vogliamo che qualcuno possa tirare un sensore, seguire il filo e trovare il sistema d'allarme. Questo perché? Perché questi sensori, questi spioncini, rendono vulnerabile il sistema classico di allarme. Ok? Quindi ragazzi, se avete qualche altra domanda, scrivete sotto nei commenti, e vi ricordo che stiamo creando la nuova rete installatori, quindi se sei un collega e vuoi entrare nella rete installatori, scrivici anche qua nei commenti o inviaci un'email e ti spiegherò un po' tutto come funziona. Per chi invece è interessato ad installare questo prodotto nella propria vettura, contattateci via email e se abbiamo già un installatore vicino a casa vostra, vi diciamo chi è in modo che potete andare a fare l'installazione. Per questo video è tutto, ci teniamo aggiornati perché usciranno altri video di questo sistema d'allarme. Ciao a tutti e grazie ancora.